Salute in onda, il podcast di medicina moderna. In questa puntata di Salute in onda parliamo delle patologie andrologiche under 20, dunque quelle patologie che colpiscono i giovanissimi di sesso maschile e lo facciamo con il dottor Massimo Capone, specialista in urologia, che oggi è qui con noi. Bentrovato dottore. Buongiorno a tutti. Allora, quali sono le patologie andrologiche più diffuse nei giovani? Le patologie dell'età giovanile possono essere distinte in due grandi gruppi, le anomalie di tipo anatomico e le patologie di tipo funzionale. Appartendono alla categoria delle patologie di tipo anatomico delle condizioni come il frenulo breve, cioè una brevità del tessuto di connessione tra il glande, cioè la parte più apicale del pene, e la cute del pene che riveste l'asta. La fimosi, cioè un restringimento del prepuzio, il tessuto che normalmente ricopre il pene, ma che scorre sul glande al momento dell'erezione, lasciando libero quindi il glande di venire a contatto con i tessuti del partner, e il varicocele, cioè la dilatazione delle vene del plesso che circonda il testicolo, all'interno del quale si verifica un'inversione del flusso di sangue che sembra avere poi delle conseguenze dal punto di vista della fertilità e anche dal punto di vista della sintomatologia che quel paziente sperimenta. Tra le patologie funzionali invece dobbiamo annoverare i disturbi legati al cosiddetto rodaggio sessuale. Nei giovanissimi, nei quali l'età del primo rapporto si sta notevolmente abbassando, non è infrequente incontrare una disfunzione erettile o un'ejaculazione precoce. Sono disturbi che legati sostanzialmente all'inesperienza dei giovani che non ricevono evidentemente un'educazione sessuale adeguata per motivi molto vari e che quindi vanno incontro a una problematica di tipo psicologico nel momento in cui le cose non si verificano al momento dei primi rapporti secondo le aspettative. Ecco, come lei ha detto appunto le patologie sono varie. A oggi c'è una consapevolezza diversa nei confronti della prevenzione, però sappiamo che l'uomo di sesso maschile è un po' restio nel fare delle visite quando magari c'è la necessità di fare una visita o comunque insomma anche di controllo. Ecco, quando è che si dovrebbe fare la prima visita dall'andrologo? Questo non è facile da dirlo perché ovviamente nel nostro sistema sanitario i giovani restano in custodia al pediatra per un tempo molto lungo. Però ecco, l'accertamento di un'anomalia dei genitali dovrebbe essere fatto molto precocemente soprattutto perché le patologie anatomiche hanno spesso dei risvolti psicologici che vanno sotto il nome di disvorfofobia e che poi condizionano il vissuto sessuale di quell'individuo molto spesso anche negli anni a venire. Quindi l'individuazione di una fimosi o di un incurvamento del pene, che è una patologia congenita altrettanto frequente, che prima era stata, mi era sfuggita, ma che sicuramente incide notevolmente, hanno necessità di essere corretti precocemente e tempestivamente, possibilmente prima dell'inizio dell'attività sessuale, per evitare che vadano poi a impattare negativamente sul vissuto sessuale che va via via elaborandosi con l'esperienza. Fattori invece genetici oppure ambientali aumentano, possono aumentare il rischio dell'insorgenza di queste patologie? Fattori genetici sono evidentemente conosciuti, ma ovviamente non possono essere modificati molto spesso, nel senso che è molto difficile scegliersi i propri genitori. Molto di più possiamo fare sui fattori ambientali. Noi stiamo osservando, purtroppo, che la polluzione ambientale, il livello elevato di inquinamento il quale la società occidentale, esposta anche ai nostri giovani, sta sensibilmente riducendo la nostra fertilità. Le faccio un esempio, uno dei contaminanti ambientali più diffuso, perché rientra nella produzione della plastica, è lo ftalato, anzi gli ftalati perché rappresentano una famiglia piuttosto variegata. Bene, gli ftalati hanno un impatto sulla fertilità maschile estremamente elevato. Un altro dei fattori ambientali molto diffuso e che è legato alle nostre abitudini produttive, alimentari, eccetera, sono gli estrogeni, i fitoestrogeni, gli estrogeni usati in zootecnia che entrano inevitabilmente nella catena alimentare e che vanno naturalmente poi a interferire con la fertilità maschile che è regolata prevalentemente dal testosterone, cioè dagli ormoni maschili e probabilmente hanno un ruolo anche nella genesi di alcuni tumori del testicolo. Benissimo, io la ringrazio, dottore. Vi ricordo che potete approfondire l'argomento visitando il sito di medicinamoderna.tv e vi ringrazio per averci seguito. Salute in onda, il podcast di medicina moderna, l'informazione che ha cura della persona.